Questa unità didattica è dedicata alla ricerca nello spazio degli Stati in assenza o carenza di osservazioni. Si tratta di aumentare notevolmente il grado di realismo dei nostri algoritmi, cioè dell'applicabilità nel mondo reale, laddove è abbastanza improbabile ipotizzare di poter avere un insieme di osservazioni che ci fa essere sicuri di poter essere in uno Stato piuttosto che in un altro. Affronteremo questo argomento distinguendo il caso in cui abbiamo totale assenza di sensori, che sembra il caso più disperato, ma come vedremo è anche un caso più semplice da trattare, dal caso in cui invece abbiamo una capacità di osservazione e di percezione parziale, quindi siamo in grado solo relativamente di capire esattamente lo Stato in cui ci si trova. Dunque, partiamo quindi dal caso apparentemente più difficile, cioè quello in cui non abbiamo sensori e quindi non possiamo sapere in quale Stato ci troviamo e affrontiamo questa trattazione con lo stesso scenario giocato che abbiamo utilizzato per rappresentare, per studiare come trattare il caso delle azioni non deterministiche, cioè il caso dell'aspirapolvere che si può muovere fra due stanze, stanza A e stanza B e può vedere se la stanza in cui si trova è pulita o sporca, cioè se la stanza in generale è pulita o sporca. Dunque, se supponiamo che l'aspirapolvere in questione che la gente non ha nessun tipo di sensore, né per sapere in quale stanza si trova, né per sapere se la stanza è pulita o sporca, allora non possiamo ipotizzare nulla circa allo Stato in cui si trova, quindi lo Stato di partenza potrebbe essere uno qualunque dei possibili Stati, che sappiamo essere 8, che fanno parte dello spazio di Stato originario e in questo caso la domanda è sarà possibile trovare una sequenza di azioni che indipendentemente dallo Stato da cui partiamo ci porta a uno Stato goal, sia esso il 7 o sia esso l'8, e la risposta è probabilmente sì e potrebbe essere per esempio la sequenza di azioni vai a destra e aspira e poi vai a sinistra e aspira, a questo punto sicuramente sarebbero pulite tutte e due le stanze e sicuramente incidentalmente l'aspirapolvere si troverebbe nella stanza di sinistra, cioè la stanza A. Però questa sequenza di azioni effettivamente risolve il problema ma solo nell'ipotesi però che le azioni di muoversi a destra e di muoversi a sinistra non siano distruttive, cioè cosa succede se noi muoviamo l'aspirapolvere verso destra quando già l'aspirapolvere si trova nella stanza di destra, va a sbattere contro il muro, questo qui ha gli spingenti di gomma e quindi non succede niente e quindi l'aspirapolvere rimane dov'è oppure l'aspirapolvere si rompe. Se l'aspirapolvere si rompe questa sequenza di azioni qui non può essere utilizzata ma ecco in generale possiamo anticipare il concetto più importante che accomuna tutte e due le trattazioni caso senza percezione e caso con percezione passale è il concetto di belief state, cioè stato credenza, belief state. Che cos'è un belief state? Un belief state è l'insieme degli stati in cui al momento posso ritenere che io mi trovo cioè io non posso disambiguare, magari in alcuni casi particolari riesco a disambiguare però in generale un belief state altro non è che un insieme dello spazio di stati originario parlo di spazio di stati originario perché quello che noi facciamo in questa unità didattica adesso è passare dal concetto di spazio di stati originario al concetto di spazio dei belief state che sono, ripeto, insiemi degli stati originari. Quindi supponendo per esempio di stare in uno belief state composto di stati originari 1 e 3 dobbiamo capire le azioni che abbiamo a disposizione e in quale belief state ci fanno transire. Per esempio l'azione muoviti a destra dal belief state 1 e 3, in quale belief state ci fa transire? Stiamo andando verso la modellazione di un nuovo spazio degli stati, uno spazio dei belief state. Quindi dobbiamo capire le azioni come funzionano, come ci fanno cambiare i belief state. Beh, dobbiamo ragionare ovviamente così. Se fossimo nello stato 1, transiremmo nello stato 2. Se fossimo nello stato 3, transiremmo nello stato 4 e quindi dal belief state 1 e 3 l'azione muoviti a destra ci fa transire nello stato 2 e 4. Questo nell'ipotesi che l'azione è deterministica. Se l'azione è deterministica sicuramente la cardinalità del belief state di destinazione non sarà superiore, semmai inferiore, alla cardinalità del belief state di partenza. Nel caso in cui invece l'azione è non deterministica, per esempio l'aspirapolvere o slitta o può slittare se si muove a destra oppure può non muoversi perché scarica la batteria, ha rotto il motore, eccetera, dallo stato 1 si transirebbe o nello stato 1 e quindi appunto nel caso in cui la batteria è a terra oppure nel caso 2, se invece la batteria non è a terra. Dal caso 3 si transirebbe o nel caso 3 o nello stato 4. Tutti e 4, quindi 1, 2, 3, 4, questi stati costituirebbero il belief state di destinazione. In questo caso l'azione muoviti a destra non deterministica può effettivamente far aumentare la cardinalità del belief state. Introdotto questo concetto fondamentale, dobbiamo mettere mano al problema di modellare la ricerca nello spazio dei belief states invece che degli stati originali. Quindi quello che dobbiamo fare innanzitutto è capire, come abbiamo capito, credo che i nodi non saranno più costituiti dagli stati originali ma saranno costituiti dai belief state, cioè dagli insiemi di stati originali. E quanti saranno questi nodi? Abbiamo un'esplosione combinatoriale, perché se n erano gli stati nello spazio di stati originario, adesso i nodi nello spazio dei belief state saranno dual a n. Ci conforta che però molti di questi saranno, come vedremo presto, irraggiungibili dal belief state iniziale. Detto questo, con questo comunque patema che ci portiamo dietro, dobbiamo andare a vedere adesso quali sono gli effetti delle azioni. Adesso come andare a determinare gli effetti delle azioni sul belief state l'abbiamo già introdotto nella slide precedente. dobbiamo andare a pensare di compiere quelle azioni che erano possibili compiere negli stati che appartengono al belief state. Però dobbiamo distinguere, come abbiamo introdotto precedentemente, se le azioni hanno effetti istruttivi o meno, perché se le azioni non hanno effetti istruttivi e il massimo effetto che hanno è nessun effetto, allora noi possiamo pensare di ipotizzare, dato un belief state S grande, di poter applicare in quel belief state S grande tutte le azioni che possono essere compiute in ciascuno dei membri degli stati che appartengono a quel belief state. cioè in pratica, dato uno stato in quel belief state, andiamo a prendere tutte le azioni che possiamo fare in quello stato, poi ne prendiamo un altro e un altro e un altro e facciamo l'unione di tutte queste azioni e queste saranno le azioni che potremmo fare in un belief state. Perché se poi un'azione realmente non la potremmo fare perché siamo in uno stato in cui non è possibile farla, la massima cosa che succede è che non succede niente, quindi non ce ne preoccupiamo. Se invece siamo in condizioni di azioni distruttive dobbiamo metterci in condizioni appunto di cautela e quindi la cautela più estrema che possiamo fare è concepire come compibili all'interno del belief state, solo quelle azioni che siamo sicuri che possono essere compiute indipendentemente dal fatto che ci troviamo in uno stato oppure in un altro all'interno del belief state. E cioè in pratica dobbiamo rendere possibili solo le azioni che appartengono alle intersezioni fra gli insiemi di azioni che possiamo compiere in ciascuno degli stati appartenenti a quel belief state. Bene, una volta che abbiamo chiarito questo dobbiamo andare a capire quali sono i risultati del compimento di una certa azione su un certo belief state, cioè quale sarà il belief state prodotto. L'abbiamo anticipato nella slide precedente. In pratica quello che dobbiamo fare è andare a applicare quell'azione su ogni stato componente del belief state e raccogliere come componenti e costituenti del belief state di destinazione gli stati prodotti già da quell'azione su ciascuno degli stati componenti. È quello che è descritto in questa equazione qui, in questa formula logica. In pratica il nuovo belief state prodotto a partire da S, belief state S grande dall'azione A sarà costituito da tutti gli stati che vengono prodotti dall'azione A compiuta nel singolo stato S appartenente a S grande. Nel caso in cui le azioni sono non deterministiche dobbiamo semplicemente ricordare, come abbiamo visto nella slide precedente, che dato un certo stato del mondo originario, dello spazio stato originario, che quella azione potrebbe produrre più stati e quindi dobbiamo prenderli in tutti questi e quindi un'azione A, dato un certo stato, può produrre più stati e risultati e dobbiamo prendere tutti, quelli che fanno parte di questi insieme risultati e dobbiamo prendere tutti quanti e rendere tutti quanti parte del belief state risultato dell'applicazione di A al belief state S. Leggermente più delicata la definizione del test obiettivo, che ovviamente si fa a partire dal test obiettivo dello spazio di stato originario possiamo semplicemente dire che possiamo considerare un'estensione allo spazio di belief state il test obiettivo dello spazio originario semplicemente dicendo che questo deve valere per tutti gli stati e componenti un certo belief state, cioè se dato un belief state tutti gli stati e i suoi componenti soddisfano il goal, il test obiettivo dello spazio di stato originario allora diciamo che quel belief state soddisfa il test obiettivo leggermente più delicata la definizione dei costi di cammino tutto sommato non ci interessa granché perché noi dobbiamo solamente formalizzare lo spazio dei belief state non andiamo a vedere proprio delle strategie di ricerca specifiche depth first, breadth first eccetera dopo che abbiamo formalizzato potremmo utilizzare una qualunque di quelle strategie però qualora fossimo interessati ai costi di cammino quindi ad esempio all'ottimalità dovremmo tenere presente che c'è una leggera complicazione qui è perché dovuto al fatto che le azioni che abbiamo a disposizione, quelle vere se hanno un costo che è indipendente dallo stato in cui l'azione viene compiuta allora il costo dell'azione sarà ereditato dall'azione stessa e non c'è nessun problema ma se l'azione ha un costo che dipende dal particolare stato S in cui S viene compiuta non sapendo qual è lo stato S in cui verrà compiuta perché appunto abbiamo o assenza di osservazioni o osservazioni parziali non sarà facile capire quale sarà dei vari possibili il vero costo dell'azione quindi potremmo metterci o in condizione di minimalità quindi prendere il costo minimo, il costo massimo, il costo medio a seconda di quelle che sono le specifiche del dominio applicativo specifico in cui ci stiamo muovendo bene, una volta che spero che sia chiaro il fatto che stiamo passando dal ricerca nello spazio degli stati a ricerca nello spazio dei belief states e che utilizzeremo gli stessi algoritmi che abbiamo appena visto e quindi abbiamo fatto questa transizione concettuale a questo punto, dal punto di vista formale, il problema è ben impostato andiamo a vedere degli aspetti positivi intanto appunto nel caso di assenza totale di osservazioni possiamo rilevare da questo bel diagramma prodotto dal testo che sto seguendo per questa trattazione cioè il Russell e il Norwig vediamo che dei 2 alla 8 cioè 256 possibili belief state di cui potrebbe essere composto lo spazio dei belief state nel caso del nostro scenario giocattolo in realtà solo 12 come vedete sono possibili sono raggiungibili cioè dal belief state originario dal belief state originario che è questo che è rappresentato qui al centro muovendosi a sinistra si va in questo belief state muovendosi a destra si va in questo belief state aspirando si va in questo belief state e così via potete eseguire tutto il diagramma degli stati come vedete abbastanza singolarmente non c'è un belief state composto dai 2 stati obiettivi ma ci sono 2 belief state costituenti ciascuno da un singolo stato obiettivo l'8 e il 7 non c'è un belief state che contiene sia il 7 e l'8 comunque appunto non è raggiungibile con un tal belief state e quindi come vedete il problema è abbastanza semplificato e anzi è talmente semplice che si può seguire si può risolvere anche ad occhio quindi per esempio non so dal belief state originario aspirando muovendosi a sinistra aspirando muovendosi a sinistra aspirandosi muovendosi a destra e aspirando si va sicuramente in uno stato goal come si potrebbe con qualunque percorso questi sono i due stati goal e questo è lo stato originario lo stato iniziale ma come sappiamo negli argomenti di ricerca che evitano i cicli se abbiamo già espanso un nodo e quel nodo ritorna sulla frontiera non lo rimettiamo per niente sulla frontiera se abbiamo la lista dei nodi visitati lo stesso possiamo fare anche qui se per esempio non so avessimo già in qualche maniera prodotto il belief state 5.7 e lo dovessimo riprodurre di nuovo non lo metteremo anche se dovremmo chiaramente ottimizzare anche 7.5 sarebbe lo stesso belief state quindi se andiamo dentro se invece di considerare il belief state scatole chiuse andiamo a vedere come sono composti possiamo anche probabilmente rendere ancora più efficienti gli algoritmi osservando che si può dimostrare facilmente che se una sequenza di azioni è una soluzione per un certo belief state lo è anche per un suo sottoinsieme cioè vale a dire che se per esempio abbiamo una sequenza di azioni dunque per esempio partendo da 1,3,5,7 aspira vai a destra aspira è una soluzione beh la stessa soluzione aspira vai a destra aspira è anche per 5,7 che è un suo sottoinsieme perché ad esempio da 5,7 se aspiro non succede niente rimango in 5,7 poi se vado a destra vado qui e se vado a sinistra vado qui da questa semplice osservazione ne deriva che noi se abbiamo già sulla frontiera il nodo 5,7 e poi dovessimo in qualche maniera produrre seguendo un'altra strada appunto mettere sulla frontiera il nodo 1,3,5,7 beh sarebbe inutile farlo perché qualunque soluzione per 1,3,5,7 lo sarebbe anche per 5,7 quindi continuiamo a lavorare su 5,7 inutile che mettiamo sulla frontiera anche 1,3,5,7 questo ma questa è la prima semplificazione però la stessa osservazione ci può anche indurre anche un altro ragionamento e cioè se per esempio abbiamo già trovato una soluzione per 1,3,5,7 siccome questa soluzione varrà anche per ogni suo sottoinsieme qualora in un'ulteriore ricerca dovessimo produrre mettere sulla frontiera star mettendo sulla frontiera 5,7 vedendo che è un sottoinsieme di un nodo che abbiamo già risolto possiamo semplicemente riutilizzare la soluzione che avevamo già risolto per questo nodo qui e quindi è inutile che lo mettiamo nella frontiera dunque per concludere questa sezione facciamo alcune osservazioni importanti a parte che potremmo anche seguendo la linea che abbiamo fatto quella di aprire il bilistete e non considerarlo atomico ma andare a vedere gli stati di cui è composto potremmo anche adottare un approccio incrementale che è questo qui cercare una soluzione per un solo stato all'interno del bilistete vedere se questa soluzione è valida per il secondo se non è valida cercarne un'altra e vedere se è valida per il secondo se questa è valida anche per il secondo vedere se è valida anche per il terzo e se dovesse fallire sempre con il backtracking lavoriamo fino a trovare una soluzione che sia vada bene per tutti quanti questo approccio ci consentirebbe prima di trovare prima i fallimenti e potrebbe sotto certe condizioni rappresentare un vantaggio computazionale va detto che non è per niente scontato che è un problema senza osservazioni si possa risolvere nel caso per esempio dell'n puzzle se noi muoviamo alla cieca mettiamo un tovagliolo sopra l'n puzzle e quindi non sappiamo qual è lo stato iniziale non esiste nessuna sequenza di mosse delle 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 tessere che ci consente di arrivare nella selezione obiettivo ma se apriamo una finestrella nel tovagliolo che ci consente di vedere una sola casella dell'n puzzle e quindi una sola tessera che è sotto in quella casella in corpondenza di quella finestra questa osservazione è assai limitata quindi ci proviamo una sola delle 16 caselle per esempio un 4x4 bene ci consentirebbe comunque di risolvere il problema perché basterebbe far passare sotto quella finestrella tutte e 16 le caselle a questo punto noi sapremmo anche dove sono tutte e 16 le caselle perché in frattempo le abbiamo spostate noi e quindi potremmo sapere quale è lo stato iniziale e utilizzare una tecnica convenzionale per risolvere l'n puzzle quindi qual è la morale di questo di questo cosa che abbiamo detto la morale è che la differenza fra assenza di osservazioni e limitate osservazioni seppur limitatissime osservazioni potrebbe essere abissale quindi ci sono e inoltre che ci sono alcuni problemi appunto che con pochissime osservazioni si possono risolvere ma assenza di osservazioni non si possono risolvere quindi non serve avere un algoritmo efficiente o un metodo efficiente di lavoro se il problema è risolvibile un'altra osservazione concludendo questa parte dedicata all'assenza di ricerca in assenza e osservazioni è che anche se tutto sommato il numero di mosse da fare e quindi della ricerca potrebbe essere fattibilissima e anche il numero tutto sommato dei bilistetti raggiungibili a partito stato iniziale può essere anche molto limitato e un problema potrebbe nascere da anzi nasce per applicazioni realistiche dal fatto che il numero degli stati componenti i bilistetti potrebbero essere pochi ma il numero degli stati che fanno parte dei bilistetti potrebbero essere troppi se per esempio avessimo il dominio dell'aspirapolvere invece che solo in due stanze si dovesse muovere in 10 per 10 stanze avremmo qualche cosa come 100 per 2 alla 100 100 per 2 alla 100 possibili possibili stati e quindi bilistetti non sarebbero un'enormità ma sarebbe un'enormità il numero di stati che ne farebbero parte i bilistetti raggiungibili non sarebbero un'enormità ma ciascun bilistetti sarebbe irrappresentabile perché non potremmo rappresentarlo in maniera come si abbia fatto adesso quindi questo è il primo momento in cui però vediamo quella che sarà la differenza fondamentale tra questo approccio al cerchio spazio di stati e quella che utilizzerà la pianificazione la pianificazione che vedremo in un successivo modulo didattico non sarà altro che applicazione di queste tecniche che abbiamo visto fino adesso però in un contesto più realistico in cui il concetto importante sarà questo che blistet o state se si voglia a quel punto non ci sarà più nessuna differenza lo rappresenteremo in maniera estremamente compatta utilizzando il linguaggio della logica dei predicati quindi ritorneremo a lavorare con la logica dei predicati e questa ci consentirà di poter rappresentare blistet in maniera eccezionalmente compatta e quindi questo problema qui cioè il problema della rappresentazione di blistet scomparirà rimarrà ovviamente il problema della complessità della ricerca nello spazio degli stati conclusa la parte relativa all'assenza di osservazioni andiamo a vedere la parte che è un po' più difficile da trattare anche se appunto è più possibile trovare delle soluzioni e cioè quella con le osservazioni parziali cerco di far capire da subito qual è la maggiore relativa maggiore difficoltà relativa piccola maggiore complessità di questo modello di rappresentazione del problema la maggiore complessità sta nel fatto che abbiamo a disposizione appunto un nuovo tipo di azione che la chiamiamo percezione il cui scopo è quello di acquisire informazioni sulla natura dello stato in cui ci troviamo e avere anche a disposizione una percezione limitata per esempio avere un solo sensore di sporco che sia locale all'aspirapolvere quindi non è fisso nelle stanze quindi ci dice la stanza A è sporca la stanza B è sporca indipendente dove si trova l'aspirapolvere supponiamo che il sensore di sporco sia locale all'aspirapolvere quindi noi siamo in grado di sapere dove si trova l'aspirapolvere e anche se il luogo dove si trova l'aspirapolvere è pulito sporco ma non sappiamo nulla circa l'altro luogo quello dove l'aspirapolvere non si trova quindi per esempio sappiamo che l'aspirapolvere si trova nella stanza A che è sporca adesso non sappiamo questo è un sotto insieme di quello che potremmo avere se avessimo un sensore non locale sapremmo per esempio se si trova in A l'aspirapolvere o in B e se A è sporca o se B è sporca e così via comunque è meglio di niente è meglio di niente ma a parte questo il concetto fondamentale è che abbiamo appunto un'altra azione molto speciale da mettere in conto di poter compiere anzi di dover compiere quando andiamo a cercare il percorso nello spazio degli stati cioè non dovremmo solamente pianificare per utilizzare un'espressione che utilizzeremo molto fra un successivo modulo didattico l'azione di muoversi a destra di muoversi a sinistra o di aspirare ma immediatamente successivamente immediatamente dopo aver compiuto quest'azione pensato di compiere quest'azione dobbiamo già pensare di compiere l'azione percettiva e questo è quello che cambia il modello di transizione fra i bleed state cioè torniamo all'esempio 1.3 che fra l'altro è proprio potrebbe essere un bleed state prodotto dalla percezione limitata dovuta alla località del sensore di sporco il sensore di sporco è locale all'aspirapolvere l'aspirapolvere si trova in A vede che effettivamente A è sporco però non sa nulla circa la stanza B a questo punto il bleed state corrispondente a questa percezione limitata è 1.3 quello che abbiamo visto nella slide precedente se in questo bleed state prevediamo di spostarci a destra come abbiamo visto nella slide precedente andremo nel bleed state 2.4 questo lo chiamiamo a questo punto però attenzione lo chiamiamo per esempio biostate di transizione perché in realtà non è il biostate definitivo in quanto che una volta che fossimo in 2.4 noi già sappiamo che la gente che si muove dovrà potrà e quindi dovrà riaccendere i sensori e quindi andare a percepire l'informazione che il sensore gli potrà dare e che cosa gli potrà dare a questo punto in 2.4 gli potrà dare che si trova in B perché sicuramente si trova in B e gli potrà dare la percezione circa il fatto che B sia sporca in questo caso a questo punto saprebbe con certezza che si trova nello stato 2 o che B è pulita in questo caso saprebbe con certezza che si trova nello stato 4 a questo punto la transizione complessiva non è più dallo stato 1 dal bilistate 1.3 al bilistate 2.4 ma è dal bilistate 1.3 al bilistate 2 oppure dal bilistate 1.3 al bilistate 4 cioè in pratica le differenze sono uno che abbiamo potuto dovuto mettere in conto di pianificare anche un'azione di percezione e quindi prevediamo che percepiremo 2.4 che a seguito di questa pianificazione della percezione che però non sapremo quale esito ci darà introduciamo nello scenario un'ulteriore forma di indeterminatezza al pari di quella che avevamo introdotto quando abbiamo considerato l'indeterminatezza insita nell'azione ma questa è una forma di indeterminatezza diversa è un'indeterminatezza legata alla percezione ma come abbiamo visto come trattare l'indeterminatezza nell'altra unità di dati cioè mediante grafi endoro sappiamo anche come trattare questa indeterminatezza perché tanto alla fine il risultato è che non sappiamo se siamo transiti dallo stato dal bilistate 1.3 al bilistate 2 oppure dal bilistate 1.3 al bilistate 4 nel caso di azione non deterministica le due forme di indeterminatezza si per così dire si assommano in qualche maniera vanno considerate entrambe quindi abbiamo un scenario leggermente più complesso ma comunque sempre risolvibile mediante l'applicazione di grafi endor infatti che cosa avremo avremo semplicemente che l'azione di per sé ci farebbe transire in maniera da un bilistate 1.3 al bilistate 1.2.3.4 come avevo visto nella slide precedente dopo di che però la percezione ci disambiguirebbe in parte in parte ci disambiguirebbe il bilistate in cui si trova per esempio se siamo nel bilistate 1.2.3.4 la percezione siamo nella stanza B e la stanza B è sporca sarebbe compatibile di questi quattro stati solo con lo stato 2 quindi sicuramente questo sarebbe il bilistate risultante oppure potrebbe avere a caso dell'indeterminatizia dell'azione potrebbe aver insaurito la batteria e quindi l'aspirapower non si è mosso oppure rotto il motore oppure hanno slittato le ruote e quindi essere rimasto nella stanza A a questo punto in questi casi qui la percezione che potremmo avere è a sporco e a sporco sarebbe la stessa percezione avremo un bilistate quindi composto dai stati 1.3 che è sostanzialmente il bilistate di partenza oppure se invece l'azione è stata compiuta l'aspirapolvere si è spostato e il sensore dà la risposta che la stanza B è pulita solamente lo stato 4 è compatibile come vedete nel caso in cui l'azione è non deterministica in pratica la percezione partiziona il bilistate di transizione nel caso in cui l'azione è non deterministica non si può parlare di partizionamento perché c'è una sovrapposizione no in questo caso c'è un partizionamento anche nel caso dell'azione deterministica comunque in generale ecco cosa possiamo trarre come conclusione diciamo del nostro approccio che nel caso in cui abbiamo una percezione parziale la transizione da un bilistate all'altro è un processo che viene effettuato in tre fasi per prima cosa si va a effettuare la predizione del nuovo bilistate di transizione S-circonflesso chiamiamolo così come abbiamo imparato a fare anche nel caso delle osservazioni dell'assenza di osservazioni quindi per data l'azione A andiamo a vedere questa azione A come trasforma ciascuno degli stati appartenenti al bilistate originario andiamo a raccogliere tutti questi stati in un insieme e questo sarà il nuovo bilistate parziale cioè di transizione perché poi su questo bilistate parziale di transizione dobbiamo ipotizzare di compiere le azioni di percezione e quali saranno le percezioni che possiamo fare saranno possibili azioni percettive tutte quelle che queste azioni percettive non è distruttiva e quindi possiamo pensare di prendere l'unione di tutte le percezioni che potremmo fare in ciascuno degli stati componenti del bilistate di transizione che sarebbe la fase 2 dopodiché dobbiamo fare la fase 3 la fase di aggiornamento e cioè dato il bilistate di transizione dobbiamo andarlo aggiornare alla luce di ogni possibile osservazione che può essere fatta e per ogni possibile osservazione ci sarà un s0 relativo a quell'osservazione e quindi per esempio in questo bilistate come abbiamo appena visto se sappiamo l'osservazione ci dice che la stanza B è sporca produciamo questo bilistate se l'osservazione ci dice che la stanza B è pulita produciamo quest'altro bilistate e così anche nel caso dell'azione deterministica se l'osservazione ci dice che la stanza A è sporca questa osservazione non è compatibile con il 2 perché si la stanza A è sporca ma l'aspirapolvere non si trova in A ma si trova in B scusate questa osservazione non è che la stanza A è sporca ma l'aspirapolvere si trova in A e la stanza è sporca l'1 è compatibile con questa osservazione il 3 è compatibile e il 4 no ecco quindi che questa osservazione qui produrrebbe questo bilistate qui così come questa qui produrrebbe questo bilistate così come l'aspirapolvere si trova in B e la stanza è pulita produce questo bilistate qui dunque la transizione complessiva è fra il bilistate originario e i bilistate che stanno sulla destra i quindi vuol dire che i risultati dell'applicazione di A al bilistate originario è l'insieme di tutti i bilistate che sono stati prodotti da questo modello di transizione e quindi essendo più di uno quello che verrà a essere prodotto sostanzialmente è un qualcosa che conosciamo già cioè la soluzione del problema di ricerca nello spazio di bilistate con osservazioni parziali sarà un cosiddetto piano di contingenza l'abbiamo già visto nel caso delle azioni non deterministiche utilizzeremo una ricerca su grafo indoor sostanzialmente per risolvere il nostro problema ecco quindi per esempio supponendo solamente una rappresentazione parziale dal bilistate 1-3 supponendo appunto di avere l'osservazione che ci troviamo in A e A è sporco produciamo quindi 1-3 e a questo punto in 1-3 cosa si può fare? si può o aspirare o muoversi a destra e in travi i casi andiamo in un nodo end come abbiamo imparato a vedere nell'altra unità didattica e nel caso in cui abbiamo aspirato il nodo end in realtà è costituito da un unico congiunto che è il bristate 5-7 nel caso invece che siamo andati a destra il nodo end è costituito da due congiunti perché potremmo essere andati a finire nel bristate costituito dall'unico stato 2 oppure nel bristate costituito dall'unico stato 4 e a questo punto il 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 piano il piano di contingenza potrebbe essere questo qui aspira e e poi vai a destra se il bristate aspira vuol dire che sei in 5-7 e poi vai a destra se il bristate è 6 allora aspira perché sei passato è costituito dall'unico stato 6 allora aspira se invece andando a destra da qui se andate a finire in un bristate che c'è solo stato 7 non fai niente perché sei in un bristate che raggiunge già l'obiettivo quindi obblichiamo comunque insomma la ricerca grafo indoor e anche qui si potrebbe migliorare testando sotto insieme o sopra insieme come abbiamo visto nel caso di assenso osservazione oppure utilizzando un approccio tipo ricerca parziale bene andando verso la conclusione diciamo anche che questo che questo modo di cioè questo scenario cioè lo scenario della percezione parziale introduce anche appunto delle modifiche importanti nel modo in cui dopo noi andremo a realizzare gli agenti che si muoveranno proprio o agiranno nel mondo perché la gente che va a operare in condizioni di osservazione parziali deve essere progettato e meno tale che poi dopo aver eseguito l'azione deve applicare una funzione di quella che è chiamata Recursive Believe State Estimator si muoverà sempre lui avendo solo una stima una credenza dello stato in cui si trova quindi si poterà dietro sempre un Believe State però dovrà sempre aggiornare questo Believe State mediante esattamente questa formula cioè per prima cosa questo era il Believe State S che lui aveva prima del compiere relazione deve pensare di compiere relazione e quindi predire quale sarà il nuovo Believe State dopodiché deve aggiornare il Believe State dopo che ha compito l'azione alla luce dell'osservazione effettiva e quindi che cosa succederà succederà un modus operandi importante questo comune a tutti gli agenti che fanno pianificazione proprio di azioni nel mondo reale sostanzialmente che cosa fanno fanno un ciclo di questo tipo cioè a Nobel State qui rappresentiamo uno schema di problema didattico un robot che si può muovere su un labirinto e che ha una non sa dove si trova e ha delle mosse a disposizione quello di muoversi di una casella verso nord o ovest sud est e ha anche un sistema di percezione che gli fa percepire l'ostacolo l'ostacolo in direzione nord sud ovest est e anche lui sa di essere si è mosso in una casella ma non sa esattamente in che direzione si è mosso perché non ha un sistema di orientamento del movimento ma sa solo che si sta muovendo questo è lo scenario di questo semplice esempio che serve per capire un concetto generale che è la ciclicità con cui opera un agente che ha osservazioni parziali all'interno del mondo che cosa fa all'inizio S non ha assuramente informazioni su dove si trova e quindi avendo lui comunque una rappresentazione della geografia del mondo in cui si trova sa che potrebbe trovarsi in una qualunque delle caselle non nere di questo labirinto se ha la percezione che c'è un ostacolo al nord un ostacolo al sud e un ostacolo ad ovest l'insieme delle sue possibili locazioni e quindi il suo bilistate si restringe a seguito di questa percezione alle sole quattro caselle rosse e a questo punto e questo sarebbe il nuovo bilistate S0 fa pianifica l'azione di muoversi quindi si deve muovere ovviamente si può muovere da questo punto solo qui da questo punto solo qui e quindi la predizione dell'azione di spostamento ci porta al bilistate di transizione costituito dalle caselle gialle che sarebbero le caselle dove si potrebbe trovare a seguito della predizione però lui già va a prevedere quale potrebbero essere la successiva osservazione e lui sa già che se osservasse nord-sud ostacolo a nord o ostacolo a sud per esempio e ci fermiamo qui non facciamo altri casi lui sa che a questo punto saprebbe di trovarsi esattamente qui dopo aver compiuto l'azione di spostamento se prevede di fare altre osservazioni per esempio ostacolo a nord allora saprebbe di trovarsi qui ostacolo a sud saprebbe di trovarsi qui ostacolo a sud est saprebbe di trovarsi qui bene con questo concludiamo questa unità didattica nella successiva affronteremo un altro problema interessante molto interessante che complementa tutto quello che abbiamo visto finora e cioè la modellazione stessa dello spazio degli stati nell'ipotesi che la gente si muove in uno spazio a lui sconosciuto totalmente sconosciuto quindi nella prossima unità didattica vedremo come modellare un agente intelligente esploratore